Dopo tanti rinvii si parte. Si è insediato il cantiere che dovrà provvedere alla demolizione e ricostruzione della scuola media Dante Alighieri in via Gattoni. Un intervento annunciato già da fine 2022, periodo in cui gli studenti della scuola di Soria furono trasferiti a Pesaro Studi in via Le Trieste per un maxicantiere che di fatto parte un anno e mezzo dopo in seguito ad una serie di intoppi legati soprattutto alle ditte appaltatrici. Da fine marzo dunque via a lavori che dureranno circa due anni. Durante la settimana in corso la società fanese GM Costruzione ha provveduto agli sfalci di vegetazione e al trasporto in loco di ponteggi e materiali utili all'intervento. Da oggi sono state apportate modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area del cantiere. Quello sulla Dante Alighieri sarà un intervento da 6 milioni e mezzo di euro per due terzi dei quali finanziati dalla regione Marche. Il cantiere svilupperà una nuova scuola all'avanguardia per efficientamento energetico che si svilupperà su due piani. due biblioteche, due sale di musica, due sale professori, un'aula dedicata al sostegno, spogliatoi per la palestra e un locale infermeria.